Quest'anno la Festa delle Donne sarà l'occasione per ribadire il no ad ogni forma di violenza e militarizzazione, con attenzione particolare alla questione del Muos di Niscemi. Oggi in Piazza Duomo la rete di associazioni La Ragnatela ha presentato la manifestazione prevista per il prossimo 8 marzo. Un corteo, dicono gli organizzatori, di donne e uomini, di immagini, sentimenti e parole, che risuonerà di testimonianze vive e si colorerà di creatività, che partirà da Villa Bellini alle 10 e attraverserà Vietnea fino in Piazza Università. Qui sono previsti momenti di riflessione e diverse performance a cura delle associazioni che hanno aderito all'iniziativa. Vogliamo denunciare la violenza che subiscono soprattutto le donne migranti, sia nel percorso che le porta dalla loro terra fino a questa terra che dovrebbe essere di accoglienza, ma che in realtà poi si trasforma in un altro luogo di sfruttamento e di violenze. E' il tema della militarizzazione del nostro territorio. La Sicilia è una zona, è una terra bellissima, che purtroppo è stata destinata alla militarizzazione, a essere punto strategico, avamposto militare nel Mediterraneo. E i due temi sono strettamente legati, perché diciamo proprio questa militarizzazione del territorio fa della nostra terra, e quindi diciamo quasi il confine dell'Europa, e quindi un muro nei confronti del quale si scontrano e si infrangono tante speranze e tanti desideri di tanti uomini e di tante donne.